Mio nonno diceva Il tempo è l'ingrediente più prezioso Ci penso sempre Lo accusiamo di volare via Quando siamo noi a correre Ma ogni cosa ha bisogno di tempo Quelle buone ancora di più Per questo lavoriamo ogni giorno Secondo il metodo lenta lavorazione Dando tempo con generosità A quello che tutti noi amiamo La pasta Mio nonno aveva ragione Per quello che ci sta a cuore Non ci sono scorciatoie Pasta Rumbo Eccezionale tenuta alla cottura Grazie a tutti Grazie a tutti